un contadino aveva portato la sua mucca al mercato e l'aveva venduta per sette scudi sulla via del ritorno doveva passare accanto a uno stagno e già da lontano udì le rane che facevano si disse fra sé sentitele come strillano anche nel campo di avena sette sono quelli che ho ricevuto sette non quattro quando fu accanto all'acqua gridò stupide bestie che siete credete di saperlo meglio di me sette talleri sono e non quattro le rane continuarono con il loro ma se non ci credete ve li conto qui davanti tirò fuori il denaro di tasca e contò i sette scudi venticinque centesimi alla volta le rane non fecero caso ai suoi conti e continuarono con il loro e gridò il contadino proprio infuriato ne volete sapere più di me allora contateveli da sole e gettò tutto il denaro in acqua stette lì ad aspettare che finissero il conto e gli restituissero il suo avere ma le rane rimasero del loro parere continuarono a gridare e non gli restituirono il denaro ma tese ancora un bel po' finché venne sera e dovete tornare a casa allora cominciò a insultare le rane e gridò sciaguattone testone voi con i vostri occhi in fuori e la vostra boccaccia non sapete che gridare fino a che fanno male le orecchie ma sette talleri non siete in grado di contarli credete che io voglia star qui fino a che avete terminato? e se ne andò ma le rane gli gridarono ancora dietro e così rincasò di pessimo umore qualche tempo dopo comprò un'altra mucca la macellò e fece il conto che se avesse venduto bene la carne avrebbe potuto guadagnar tanto da ripagarsi il prezzo di tutte e due le mucche e la pelle l'avrebbe avuta gratis quando arrivò in città con la carne davanti alla porta della città si era radunato un grande branco di cani con a capo un grosso levriero che saltò attorno alla carne annusando abbaiando ma poiché non voleva smetterla il contadino gli disse capisco bene tu dici buona buona perché ne vorresti un po' ma io dovrei fare un buon affare per dartela il cane rispose solo non te la mangerai e garantisci per i tuoi compagni? disse il cane beh se insisti te la lascerò io ti conosco bene e conosco il tuo padrone ma ricordati fra tre giorni voglio il mio denaro tu non hai che da portarmelo così scaricò la carne e tornò indietro i canici si buttarono sopra e gridarono wow wow il contadino gli udiva da lontano e disse fra sé ora ne vogliono tutti ma chi ne risponderà sarà il più grosso passati i tre giorni il contadino pensò questa sera avrò in tasca i soldoni ed era tutto contento ma non arrivò nessuno a pagare non ci si può più fidare di nessuno disse fra sé e alla fine gli scappò la pazienza e andò dal macellaio a chiedere i suoi soldi il macellaio lo prese per uno scherzo ma il contadino disse scherzi a parte voglio il mio denaro il cane grosso non vi ha portato tre giorni fa la mucca che ho macellato allora il macellaio si arrabbiò afferrò un manico di scopa e lo cacciò vedrai disse il contadino c'è ancora giustizia a questo mondo e se ne andò al palazzo reale a chiedere udienza fu portato davanti al re che sedeva accanto a sua figlia e gli chiese che torto avesse subito ah disse lui rane e cani mi hanno rubato il mio e il macellaio mi ha pagato a suon di bastonate e raccontò per bene come era andata la figlia scoppiò a ridere e il re gli disse darti ragione non posso ma in cambio ti do mia figlia in sposa in vita sua non ha mai riso se non ora con te e io ho promesso che l'avrei data in sposa a chi l'avesse fatta a ridere puoi ringraziare Dio per la tua fortuna ah disse il contadino ma non la voglio proprio a casa ho una donna sola ed è già troppo quando arrivo a casa mi pare che ce ne sia una per cantone il re s'arrabbiò e disse sei proprio un gran villano signor re cosa potete aspettarvi da un bue se non carne di bue aspetta disse il re avrai un altro compenso ora va ma torna fra tre giorni e i 500 ti verranno pagati quando il contadino uscì dalla porta del castello la sentinella disse hai fatto ridere la figlia del re e ti hanno dato ciò che ti spetta lo credo bene rispose il contadino 500 mi pagheranno senti disse la guardia danno un po' anche a me cosa te ne farai di tutti quei soldi ma disse il contadino proprio perché sei tu te ne darò 200 presentati fra tre giorni dal re e fateli dare un ebreo che era lì vicino e che aveva udito il discorso rincorse il contadino lo afferrò per la giacca e gli disse meraviglia di dio che fortunato siete io vi farò il cambio del denaro ve lo cambierò in moneta spicciola cosa ve ne fareste dei talleri pesanti giudeo disse il contadino 300 li puoi ancora avere dammi subito la moneta di cui a tre giorni la somma ti sarà data dal re l'ebreo pieno di gioia si rallegrò del guadagno e portò la somma in monetine di bassa lega di quelle che tre ne valgono due di buone passati i tre giorni il contadino andò dal re secondo gli accordi toglietegli la giacca disse il re deve avere i suoi 500 ma no disse il contadino non sono più miei 200 li ho donati alla sentinella e 300 me li ha cambiati l'ebreo io non ho più diritto a nulla intanto entrarono sia il soldato che l'ebreo e chiesero quanto avevano ottenuto dal contadino e ricevettero esattamente lo stesso numero di botte il soldato le sopportò con pazienza tanto ne conosceva già il sapore l'ebreo invece gemeva ah come devo gridare sono questi gli scudi pesanti il re rise del contadino e poiché la rabbia gli era passata disse poiché ti sei già speso il guadagno ancora prima che ti fosse dato ti darò un risarcimento va nelle mie stanze del tesoro e prenditi tutto l'oro che ti pare il contadino non se lo fece dire due volte e si riempì le tasche come poté poi andò all'osteria e contò il suo denaro l'ebreo gli era corso appresso e lo sentì borbottare quel briccone d'un re mi ha preso per il naso se me lo avesse dato lui il denaro saprei quello che ho come posso sapere se è giusto quello che mi sono preso dio misericordioso disse l'ebreo costui parla con disprezzo del nostro signore io corro a denunciarlo e così io riceverò un premio e lui sarà punito quando il re seppe dei discorsi del contadino andò su tutte le furie e ordinò all'ebreo da andare a prendere il peccatore l'ebreo corse dal contadino dovete venire subito dal signor re così come siete e state lo so ben io quello che devo fare rispose il contadino prima mi faccio fare una giacca nuova pensi che uno che ha tanto denaro in tasca se ne debba andare in giro con i suoi vecchi stracci l'ebreo quando vide che senza una giacca nuova il contadino non si moveva e poiché temeva che sbollita la rabbia del re lui ci avrebbe rimesso il premio e il contadino al castigo disse per questo poco tempo la giacca nuova te la impresto io e lo faccio per pura amicizia che cosa non si fa per il bene degli altri il contadino accettò indossò la giacca dell'ebreo e conquistando dal re il re rinfacciò al contadino le male parole che l'ebreo gli aveva riferito ah disse il contadino quello che dice un ebreo è sempre falso che non c'è parola di verità che possa uscire dalla bocca di un ebreo questo tipo ha il coraggio di affermare che io indosso la sua giacca che significa disse l'ebreo non è forse mia quella giacca e non ve l'ho prestata per quella amicizia così che poteste presentarvi davanti al signor re quando il re udiciò disse l'ebreo ha ingannato qualcuno di sicuro o me o il contadino e lo pagò di nuovo con quei talleri veramente pesanti il contadino se ne tornò a casa con la giacca buona e con il suo bel denaro in tasca e disse stavolta l'ho fatta giusta l'ho fatta giusta